Allora eccoci qua ai giardini Falcone, a Rivoli, comune di Rivoli, provincia di Torino, Italia, Italia. Allora ecco i vandali, signori, cosa hanno combinato ieri e l'altro ieri, insomma in questi giorni. Guardate che roba, proprio violenza, violenza allo stato puro. Guardate che roba, guardate che roba, hanno spaccato tutto. E non solo, questo è quello che resta di un pezzo di balaustra della pista di pattinaggio. Guardate che roba, guardate che roba, ci va una forza enorme per fare questo lavoro qua. Sicuramente non era uno da solo. E quello, ecco qua cosa resta della pista, un bel tubo lì che spunta, pezzi di ferro. Ecco questa è la situazione attuale, guardate che roba, hanno proprio spaccato tutto con violenza. E poi anche oggi abbiamo scopato, guardate quante cicche di sigarette, erano tutte sulla pista, come al solito. I signori si mettono qua e fanno il lancio delle sigarette. Mi pare che la multa sia 300 euro a sigaretta, credo no? Ecco, il comune potrebbe farsi un sacco di soldi, guardate, 3, 6, 9, 12, 15, si pagherebbe tutti i costi, tutti i costi di rifacimento della balaustra. 300 euro ogni sigaretta lanciata. Ok? Va bene, fine della puntata. Oh bravo Andrea, pulisci tutto. 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 Grazie a tutti.